Il leader d'Italia viva Putin è l'aggressore ma non è come Hitler, lui provi a vincere la pace. Per l'ondata di profughi ucraini serve un commissario stile filiolo che coordini Viminale, sindaci e terzo settore. Senatore Renzi, il premier Draghi, nell'intervista al Corriere, ha detto che il governo arriverà in fondo se i partiti saranno uniti. La maggioranza reggerà? Certo, la credibilità di Draghi è il valore aggiunto dell'Italia in questa fase. Tutti ormai riconoscono che abbiamo fatto bene a mandare a casa Conte. Quel passaggio della campanella è stato una benedizione per l'Italia, lo dice anche chi non mi ama. E la maggioranza reggerà fino al 2023. Però a destra attaccano la riforma del fisco, lei quella sulla giustizia che definisce, inutile. Che intenzioni ha? Sono due cose diverse. La destra ha dubbi sul catasto, ma sta trovando un'intesa con Draghi. Sulla giustizia noi pensiamo che la riforma sia inutile. Non dannosa come lo era quella di buona fede, semplicemente inutile. E dunque ci asteniamo. Non vedo drammi, ma solo serietà da parte nostra. Se ci fosse stata la fiducia avremmo votato a favore, in nome di un superiore interesse politico. Ma senza fiducia ci asteniamo perché questa riforma cambia poco. Il potere delle correnti rimane tale e quale, purtroppo. Draghi ha detto che non si candiderà. Ma lei pensa che dopo le elezioni possa essere di nuovo premier? Manca ancora un anno e in politica un anno è un'era geologica. Ne parleremo. Draghi può ancora fare tutto. Ora lasciamolo lavorare.